Un mio romanzo, Il Santo, messo all'indice da un decreto della Chiesa. Io mi sono risoluto a prestare al decreto quella obbedienza che è il mio dovere di cattolico, perché io sono cattolico, spero di morire nel grembo della Chiesa Cattolica, confortato dai suoi sacramenti. Io sono cattolico e spero di poterlo essere anche senza associarmi ai farisei. Io deploro l'abuso delle scomuniche. Tutte le imperfezioni della Chiesa, tutta la mondanità da cui è penetrata. Io, no, non voglio giudicare perché Cristo me lo vieta, ma riconosco tutto il male fatto dal clero, cominciando dai papi. Per cui mi sento liberissimo di pregare a modo mio, liberissimo di disapprovare certe effeminate, false, misere direi, devozioni che sono penetrate nella Chiesa. Io ritengo buono l'uso dei sacramenti quando non è fatto per abitudine, ma per uno slancio vero del cuore. Io odio le intolleranze e odio i gretti formalismi in cui molti vorrebbero imprigionare il vero sentimento religioso.